Fischia, in questo istante Barone è partita la sfida tra Calenzano e Quarrata Olimpia ma andiamo subito, come dicevamo, alla lettura delle formazioni e adesso vediamo come calcerà questa punizione parte Adovrandi, buono il tiro, a giro, pallone che esce dunque primo pericolo al secondo minuto per la porta difesa da Bacciosi e allora Vastola prova ad approfittarne, Vastola da terra, si rialza con quinta, pallone messo al centro e Buarabo qui, il portiere Bacciosi, a metterci una pezza Scheffny, non è che scorre alle sue spalle, poi attenzione è Fusco, la buca difensiva e alza questo pallone in maniera imprecisa, il numero unici del Quarrata Olimpia Anania non c'è dunque recupero, scade adesso il 45esimo vanno le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 tra Calenzano e Olimpia Quarrata adesso un po' di pubblicità e poi di nuovo qui per il secondo tempo di Foschini il lancio buono per Vastola, posizione regolare, Vastola, attenzione a Vastola prova la conclusione, calcia fuori però Vastola ancora Vastola con il destro, muove ad andare Vastola la mette dentro, al centro verso il numero 8 Bertini si gira questa chance per Bertini, ma c'era tutto solo dalla parte opposta Infantino che a Mangoni se ne va, proprio con l'altro capitano a Durandi Mangoni attenzione, l'avete al centro, Campana, zona tiro, Campana va al tiro Lippi, che parata di Lippi, ma attenzione non ha finita Mangoni, esterno della rete Meno